Abbiamo parlato un papà tuo. Lui è venuto a prenderti perché vuole stare un po' di tempo con te. A Bari, domani a mezzogiorno. Questa non mi serve, mi sono portato a mio figlio. Un bambino è meglio di una pistola. Ma ti sei piaciuta dosso un'altra volta? No, questa è acqua. Se quella è acqua, questa è farina. Una persona che devi trovare, che ti ha fatto? Ci ha fatto andare in galera a me, al dito e alla tua roba. Ok? Dammi la mano, dai. Ci buttiamo insieme. Uno. Due. Tre. Pensa quanti giorni ci ha rubato questo. Per le tre giorni, allora. Diciamo così. Beh, che attenzione. 비ro che attenzione. Per passare. Pensa quanti giorni. Per gli occhi.